Dalla 6 al 12 di agosto la Fondazione Matera Basilicata 2019 era ad Astana per partecipare all'Expo 2017 e quest'anno dedicato al tema Future Energy. La Fondazione Matera Basilicata 2019, come era calata in questa tematica importante sul futuro dell'energia? Abbiamo costruito durante la settimana una serie di approfondimenti in collaborazione con la Regione Basilicata, l'APT, sulla Regione e la relazione che la Regione ha in materia di sviluppo energetico, di ambiente, di relazione tra sviluppo e territorio. In questo il lunedì 7 abbiamo costruito un focus specifico su Matera 2019. Perché? Perché Matera è esemplificativa di una relazione tra uomo e territorio. Se parliamo di sostenibilità non possiamo che andare in giro per il mondo a parlare di Matera, della relazione che i cittadini nella storia, nei secoli, hanno costruito con il loro territorio. Su questo abbiamo lavorato insieme all'Unibas e al CNR per presentare la specificità della murgia materana, la specificità dell'insediamento abitativo di Matera. E su questo abbiamo anche costruito la possibilità di costruire un'identità specifica del territorio rispetto ai temi della sostenibilità, rispetto ai temi dell'abitabilità e rispetto ai temi della cultura. Alla fine abbiamo provato a presentare ai nostri interlocutori in Expo un'idea di sostenibilità che unisce cultura della sostenibilità, abitabilità e condizioni di contesto. Su questo è stato molto interessante il confronto per un motivo specifico. Perché Astano è una città giovanissima, è diventata capitale del Kazakistan 20 anni fa. Matera è una città antichissima, allora il confronto era proprio su questo. Quale possibilità a una città così giovane di imparare, di apprendere, di osservare una città così antica? La sostenibilità sta in questo. Quanto tempo perduri nella storia? E Matera su queste maestre. Abbiamo anche invitato diversi partner ad aderire al nostro avviso pubblico di sponsorizzazione e di ricerca partnership che la fondazione ha pubblicato e presentato il 20 luglio a Roma. Il desiderio qual è? Provare a costruire dei link su quel claim che gira intorno alla parola futuro. Il futuro si fa attraverso una relazione sana con l'energia, ma si fa attraverso una relazione sana e forte con la cultura identitaria di un posto. Grazie.